Crema idratante viso Nora Reve Cosmetic, effetto 24 ore. Ora vi mostro il prodotto. È un barattolo di vetro da 50 ml, tappo a specchio. La crema si presenta senza siliconi, parabeni, paraffina e oli minerali. La sua eccezionale attività è una superidratazione H24 e consigliato l'utilizzo mattina e sera soprattutto per le persone che hanno la pelle molto secca perché è ricca di acido ialuronico, di olio di mandorle dolci e di un estratto di giglio. Crema idratante Nora Reve Cosmetic viso.